Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Ha chiesto aiuto a un bambino per trasportare la spesa in casa e ha approfittato di lui. Il piccolo sconvolto è tornato di corsa dalla mamma e le ha raccontato tutto. La donna ha contattato i carabinieri, è stato arrestato un anziano invalido di 70 anni, infatti, a Termoli. Sentiamo Andrea Nasillo. Farsi aiutare a portare la spesa in casa, la scusa per appartarsi con un bambino di circa 10 anni e per abusare sessualmente di lui. Sarebbero questi i fatti avvenuti alla periferia di Termoli. I carabinieri hanno arrestato un anziano invalido. La vittima è un bambino che è riuscito a scappare sconvolto e tornato dalla mamma e le ha raccontato tutto. La donna ha contattato subito il 112, immediato all'intervento dei carabinieri che hanno raccolto utili elementi investigativi, riscontri effettivi. L'anziano è agli arresti domiciliari. Sono stati i militari di Termoli, coordinati dal procuratore di Larino, Isabella Ginefra, che sta seguendo personalmente il caso, a individuare l'uomo nel quartiere dove vive, in una zona periferica della città. Il bambino è tornato dai genitori tra le lacrime sotto shock. La procura di Larino ha attivato senza esitazione gli accertamenti info-investigativi e poco dopo, al termine di un'indagine Lampo, l'anziano è stato identificato e fermato per violenza sessuale su minore. Parliamo ancora delle indagini sulla scomparsa e sul ritrovamento della piccola Nicole. Nuovo sopralluogo ieri degli investigatori nelle campagne attorno alla casa della bambina a Sant'Angelo Limosano alcuni agenti della polizia hanno perlustrato campi e boschi nei quali avrebbe camminato la piccola di cinque anni prima di essere ritrovata a scopo degli accertamenti e verificare se i fatti siano accaduti davvero così come riferiti al momento della sparizione della bambina e ancora subito dopo il suo ritrovamento. Intanto il nonno materno di Nicole ha ribadito ancora una volta che non crede a un allontanamento volontario della nipote. Ripeto quello che ho detto dalla prima sera, ha affermato la bimba potrebbe essere stata presa da qualcuno, non poteva farcela da sola percorrere tutta quella strada. Su chi potrebbe aver preso la bambina l'uomo invece risponde io non ho avuto minacce per quanto riguarda mio genero e la sua famiglia di loro, non so. Veniamo adesso al consueto aggiornamento sull'andamento del contagio in Molise, l'ultimo bollettino dell'ASREM con i dati Covid registra un calo dei contagi e del tasso di positività. Intanto secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità il Molise resta a rischio moderato. Anna Maria Di Matteo. Sembra cominciare a scendere seppur lentamente la curva del contagio in Molise. La conferma arriva dall'ultimo bollettino ASREM che riporta 180 nuovi positivi sui 1818 tamponi processati con il tasso di positività che scende al 9,9%. Un segnale incoraggiante dunque dopo settimane di casi in costante crescita. E' a Campobasso che da giorni registra numeri preoccupanti. I nuovi contagi sono 25 come pure a Termoli mentre a Disernia i nuovi casi sono 15. Questi sono i centri maggiormente interessati dal virus e nei quali appunto si registra una flessione dei contagi. Non ci sono per fortuna vittime ma c'è il ricovero di un paziente in anziano fragile oltre ad un trasferimento da infettivi a terapia intensiva dove i ricoverati ora sono due. In totale gli ospedalizzati a Cardarelli sono 32. Buone notizie sul fronte dei guariti che sono 460 facendo così scendere a 8.045 il numero degli attualmente positivi mentre il numero delle persone decedute per Covid dall'inizio della pandemia sono 600. E in Molise nell'ultima settimana l'indice RT è in calo. Lo rivela il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità diffuso come sempre il venerdì. La regione resta a rischio moderato con l'indice RT che passa da 1,34 a 1,01. L'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è leggero rialzo passa da 877 a 897. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in calo il dato dell'area medica che però resta seppur di poco al di sopra della soglia d'allarme al 15,9%. Era 18,8 la scorsa settimana mentre la terapia intensiva che venerdì scorsa era vuota ha ora due pazienti ricoverati. Politica regionale in fibrillazione per l'approssimarsi delle elezioni del prossimo anno. Si parla di coalizioni e di movimenti civici ma si parla anche della possibilità concreta di cambiare la legge elettorale regionale con lo sbarramento del 5%. Insomma tanti i temi caldi e ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Mondo politico regionale in fibrillazione. Tutti scaldano già i motori in vista degli appuntamenti elettorali del prossimo anno. Si voterà per la Regione e il Parlamento e sono decine le poltrone in palio tutte ben retribuite. La voce che intanto gira di più e che sta già mettendo in agitazione mezzo mondo politico regionale è quella di una prossima revisione della legge elettorale. Sarebbe la seconda in questa legislatura. La prima modifica vide la cancellazione delle surroghe. Oggi si parla di una possibile correzione delle percentuali minime per entrare a Palazzo Daimmo. Si vorrebbe inserire una soglia minima del 5% anche perché le liste civiche e i vari movimenti che già si stanno preparando a scendere in campo fanno paura più di qualcuno e si pensa così di scongiurare la loro possibilità di presenza nel prossimo Consiglio regionale. Ma a tal proposito la componente PD di partecipazione democratica che fa capo a Stefano Buono, Simone Coscia e Sandro Donofrio va in senso opposto e plaude alla nascita del comitato promotore delle nove associazioni civiche, un passo importante verso la costruzione del campo largo anche in Molise. Questa, affermano i tre, è l'occasione per lavorare insieme a una proposta solida in vista delle prossime elezioni ed è necessario unire le forze per il bene della nostra regione. Benvenga la risposta del segretario PD che apre le porte ad un'alleanza con le associazioni civiche, oltre che con i partiti del centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle. Il punto di partenza per una solida collaborazione sembra finalmente chiaro a tutti. Netta discontinuità. Si è affermato che è impossibile recuperare chi ha avuto responsabilità di governo con Toma. Noi aggiungiamo, dicono i portavoce di partecipazione democratica, che non solo è impossibile ma neppure desiderabile perché l'alternanza è il sale della democrazia e l'abitudine di saltare da una coalizione all'altra seguendo le quotazioni dei bookmaker ha ormai veramente fatto il suo tempo. Intanto su un altro fronte, quello dei centristi, il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, ha riunito lo Stato Maggiore del partito per la presentazione ufficiale dell'organigramma. All'incontro di Palazzo Santa Chiara a Roma hanno preso parte per il Molise il segretario regionale Alessandro Amoroso e il presidente onorario Alfredo D'Ambrosio. L'incontro di Roma, detto Amoroso, è stata l'occasione per rafforzare legami preesistenti ma anche per aprire un dialogo trasversale ed è indispensabile porsi in ascoltativo, ad esempio con i comitati, attraverso il precioso contributo dei coordinatori cittadini. Iter del Parco Nazionale del Matese, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Micaela Fanelli ha presentato un'interrogazione formale al presidente Toma e all'assessore delegato all'ambiente per avere delucidazioni in merito allo stato dell'arte della procedura. A distanza di anni ha dichiarato Fanelli, nonostante il nulla osta a livello governativo Molise e Campania non completano le procedure di propria competenza per concludere il procedimento amministrativo. Questo ha già determinato la perdita di una serie di finanziamenti per i parchi nazionali con il rischio di disperdere anche quelli disponibili con il PNRR. Sempre il capogruppo del PD alla regione Fanelli rende noto che dopo l'azione di sollecito l'agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta e per gli investimenti nel mezzogiorno. Fanelli ha sottolineato che prima l'agenzia non aveva modificato il modello e questo avrebbe potuto rappresentare un enorme problema per il Molise. Si faccia ora una seria e capillare campagna di marketing territoriale. Ha concluso la capogruppo del PD in Consiglio regionale per attrarre nuovi investimenti verso la nostra regione. Commissione Ambiente della Camera passa un emendamento del deputato Antonio Federico che accelera le operazioni di ricostruzione post-sisma previsti con pensi straordinari per il personale della regione e degli enti regionali disposti a supportare la struttura commissariale. Sentiamo Pasquale Di Bello. 39 milioni di euro da spendere al più presto per la ricostruzione post-sisma e questa la somma che ha a disposizione il commissario Toma per affrontare le conseguenze ancora in essere del sisma che ha colpito il Molise il 14 e il 16 agosto del 2018. Toma che di recente è stato riconfermato commissario dal governo Draghi ha detto di voler dare una forte accelerata alle operazioni. In suo aiuto arriva il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico che ha presentato e fatto approvare dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati un emendamento volto a rafforzare la struttura commissariale. L'argomento è quello del personale necessario al funzionamento della struttura. Bene, l'emendamento Federico prevede dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario a favore del personale interno alla regione oppure afferente agli enti regionali che si metta a disposizione della struttura, praticamente un incentivo a lavorare su un fronte che sconta ritardi per mancanza di personale addetto. Un modo, quello escogitato da Federico, quello di più soldi in busta paga per superare le difficoltà legate alla gestione del personale. Lo scopo dell'emendamento, ha detto il deputato, è quello di accelerare tutte le attività legate al post-sisma e trasformare in opere tangibili 39 milioni di euro già da tempo a disposizione del commissario. Ora ci sono, prosegue Antonio Federico, le risorse umane ed economiche utili ad operare al meglio sul territorio e dare risposte immediate a centinaia di famiglie e imprese colpite prima dal sisma e poi piegate dalla pandemia. Non si perda altro tempo. Questa è la conclusione perentoria dell'onorevole Pentastellato. Si è riunita la conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari in regione. Il presidente Micone ha deciso di convocare per mercoledì 13 aprile alle 16 la seduta del Consiglio regionale per l'esame del documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 per la sostituzione dei componenti dimissionari della Commissione per la parità e le pari opportunità della regione. Edilizia, costi alle stelle per le imprese, corna eccezionali rincari dei materiali e dell'energia. Lace Mance scrive agli enti appaltanti della regione, fermare i lavori e aggiornare i prezzi altrimenti le imprese collassano, ha detto il presidente degli edili, Corrado Di Niro. Sentiamo. L'aumento ormai incontrollabile dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia rende ingestibile la situazione nei cantieri con un micidiale effetto domino che coinvolge anche fornitori e subappaltatori non più in grado di onorare gli impegni assunti alle condizioni pattuite. A ribadirlo sono i costruttori edili associati ad Acem Ance Molise che nel corso dell'ultima riunione straordinaria hanno preso una drastica decisione che il presidente regionale Corrado Di Niro ha messo nero su bianco in una nota inviata a tutti gli enti appaltanti della regione. Sospendere tutti i lavori pubblici in corso per aggiornare i prezzi e per le opere da appaltare, adeguare i prezzi prima di pubblicare i bandi o avviare le procedure di affidamento. Queste, in estrema sintesi, le richieste rivolte alle varie committenze dall'Associazione Costruttori Edili che, inoltre, si è rivolta al presidente del Lance Nazionale e a tutte le associazioni territoriali. La situazione è estremamente difficile, ha spiegato Corrado Di Niro. Occorrono decisioni urgenti e straordinarie per ristabilire gli equilibri contrattuali, altrimenti le imprese, come più volte denunciato, non saranno in condizione di portare a termine gli appalti in corso. E, a concluso, si verificherà davvero un blocco delle attività con gravi ricadute sul piano occupazionale e sociale. Un vero collasso del comparto. Gli operai forestali chiedono alla Regione lo sblocco dei pagamenti per Pasqua. Sono circa 200. Siamo senza stipendio da un mese, dicono, e temiamo di non riceverlo. Anche questo, ma vorremmo fare una Pasqua tranquilla. Facciamo pochi giorni di lavoro, ma almeno ci vengano retribuiti con puntualità. Continuano. Se la situazione non viene definita, dicono di essere pronti a protestare davanti alla Regione. Ennesima fumata nera tra l'azienda di trasporti, la Rivera, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno rescisso alla presenza del prefetto di Campobasso, cappetta l'accordo aziendale del 10 giugno 2021, destinato a superare il contenzioso in corso. Per i sindacati l'accordo è stato completamente disatteso, permanendo ancora i ritardi nel pagamento delle spettanze dovute. Qui l'appello alla Regione con la richiesta di revoca della concessione all'azienda da parte di la Rivera. La lettura della questione è diversa. Le difficoltà aziendali, questa è la posizione dell'azienda, nascono dal ritardo dei trasferimenti dovuti da parte della Regione. Tutto pronto alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, tre giorni dal 10 al 12 aprile per presentare il Molise agli operatori del settore del turismo provenienti da tutto il mondo. Incontri, spettacoli, degustazioni per dare risalto alle bellezze della nostra Regione. Previsti premi tra gli altri alla Comune di Milano, quello di Capracotta e al giornalista Vittorio Feltri. Sentiamo tutte le novità, tutti i particolari nel servizio di Pasquale Di Bello. Dopo due anni di pandemia e di apnea, finalmente il Molise torna a vivere e respirare. L'occasione per presentare le bellezze del nostro territorio e le peculiarità paesaggistiche, storiche, antropologiche, architettoniche ed enogastronomiche arriva dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano che apre i battenti dal 10 al 12 aprile prossimi. Dopo l'importante riconoscimento arrivato due anni fa dal prestigioso New York Times che indicava il Molise tra le principali mete da scoprire, adesso arriva la possibilità concreta di presentarsi al mondo e agli operatori di settore. A Milano si sposterà in questi giorni l'intera Regione con a capo il Presidente Toma, l'Assessore Cotugno, altri assessori e consiglieri ad organizzare l'appuntamento e l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli, individuata come soggetto attuatore e guidata dal commissario Remo Di Giandomenico. Tre giorni di incontri, spettacoli, promozioni ed eventi che terranno impegnato l'avveniristico stand molisano e vedranno la presenza di numerosi ospiti tra i quali il sindaco di Milano Beppe Sala. Prevista anche la consegna di una serie di premi tra i quali quello ai comuni di Milano e Capracotta e al giornalista Vittorio Feltri. Spazio anche alla degustazione di prodotti tipici e alla presenza delle allieve dell'Istituto Alberghiero di Termoli. Ancora droga nel carcere di Campobasso e i familiari di un detenuto sono stati denunciati per aver tentato di portare all'interno dell'Istituto sostanze stupefacenti. Ad accorgersene sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che presenziano i colloqui con i detenuti. Uno di questi che si era mostrato particolarmente nervoso è stato perquisito e a quel punto lui ha ingoiato l'involucro che presumibilmente conteneva droga. A quel punto sono stati perquisiti anche i familiari sui quali sono stati trovati droga e anche denaro. Per tutti è scattata la denuncia. La Russia di Putin, la guerra in Ucraina e l'ordine globale è stato il tema affrontato in un convegno all'Università del Molise dove sono stati analizzati aspetti storici e geopolitici. Le immagini che arrivano dall'Ucraina stanno scioccando il mondo. Città devastate dalle bombe, cadaveri nelle strade, fosse comuni, testimonianze poi di stupri, esecuzioni sommarie. La storia si ripete tragica, ancora morti ancora una volta. La guerra a sconvolgere il mondo. All'Università del Molise il dipartimento giuridico con il professor Fabio Serricchio ha organizzato un incontro di riflessione sulla Russia di Putin, la guerra russo-ucraina e l'ordine globale. Diversi gli interventi per approfondire il tema da un punto di vista storico, geopolitico, alla luce anche di dinamiche economiche e giochi di forza. L'idea era quella di rivolgerci ai nostri studenti ma anche agli studenti delle scuole superiori per offrirgli degli strumenti per interpretare una situazione molto complessa. C'è uno Stato sovrano che ha aggredito un altro Stato sovrano, la Russia che invade l'Ucraina. c'è appunto una guerra, ci sono delle stragi di civili, tutto è cronaca ma insomma vedremo nel tempo cosa sta effettivamente accadendo. Quello che è sicuro è che da questa guerra il mondo uscirà cambiato, usciranno cambiati gli esseri umani. Lei citava giustamente le stragi, i genocidi. Io parlo sempre, quando parlo anche ai miei studenti, di quanto le le guerre cambino l'essere umano. Salgado, un grande fotografo, torna dalla guerra in Ruanda, dal genocidio in Ruanda a metà degli anni 90, malati. C'è un bellissimo documentario di Wim Wenders. I pescatori termolesi ripuliscono il mare dai rifiuti. Entra nel vivo il progetto SeaCleaners consegnati a tutti i proprietari delle barche le attrezzature per proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini. Andrea Nasillo. Ecologisti, oltre che pescatori, libereranno il mare dai rifiuti. Entra nel vivo il progetto Termoli SeaCleaners per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini. Iniziativa finanziata dalla regione molise, promotore dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Impegnati anche il comune di Termoli, l'autorità marittima portuale. Protagonisti però i pescatori. A loro è stato consegnato tutto il materiale per raccogliere i rifiuti. Dalla presentazione, dalla progettazione, oggi passiamo ai fatti. Si inizia con la consegna del materiale per fare in modo che tutta la marineria, tutti i pescatori possano realizzare il progetto e quindi raccogliere il più possibile e togliere il più plastica possibile dall'ambiente. La biologa Giuseppina Mascilongo, responsabile scientifico del progetto, sta completando i protocolli operativi con i contributi di Paola Marinucci, dell'Associazione Armatori Pesca del Molise, di Domenico Guidotti, di Federco Pesca e di Agostino Defensa dell'Agci Pesca. Protocolli utili alla formazione dei pescatori. Oggi vengono consegnati i mastelli da tenere a bordo per riportare l'immuandizia a terra, vengono consegnati i dispositivi premiari e gli incentivi che sono un tablet per il geoposizionamento delle reti fantasma e un'elettrosega per tagliare tutti i tronchi che spesso e fuori indietro si impicciano nelle reti e quindi loro sono costretti a tagliare i tronchi per poter liberare la rete. I rifiuti per lo smaltimento finiranno in sei scarrabili per plastica, vetro, reti e funi da pesca, legno, ferro e indifferenziato in un'area concessa dal comune di Termoli. I pescatori contribuiranno come tanti cittadini ma soprattutto loro in particolare nel far sì che il nostro mare sia sempre più pulito, di riportare a terra i rifiuti che spesso rimangono impigliati nelle rete e quindi un amore per il mare visto che il mare è la loro vita. La tutela dell'ambiente è sempre un caposaldo. E' importante che vi sia una maggiore consapevolezza da parte del ceto peschereccio che ha sempre come dire modo di migliorare da questo punto di vista e devo dire che è molto propositiva la marineria termolese. Sarà compito della capitaneria poi vegliare su questo progetto affinché praticamente vengano correttamente svolte le procedure per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti. Si tratta comunque di un'iniziativa virtuosa. Proteste e malumore diffuso per la caotica situazione del traffico cittadino nei pressi degli svincoli per San Lazzaro a Isernia ci sono code chilometriche che partono dal bivio delle piane e arrivano fino al cantiere di un discount in costruzione. Ci dice tutto Enzo Di Gaetano. Sono diversi giorni che il traffico tra Isernia Nord e il centro della città è praticamente impazzito. I lavori della realizzazione di un discount MD che sta nascendo in prossimità della rotonda di fronte al carcere hanno mandato in tilti collegamenti da e per San Lazzaro e verso le frazioni occidentali oltre che con la Isernia Castel di Sangro file chilometriche che cominciano all'altezza del bivio dell'acqua surfurea e continuano fino al centro di Isernia. Tutto causato da lavori che in altre città e in altre realtà generalmente si fanno di notte o negli orari meno cruciali per non bloccare gli spostamenti tra le aree più popolose di un centro urbano. Invece a Isernia si fanno di giorno e negli orari di punta, cioè quando la gente va al lavoro o si sposta per portare figli a scuola. E qui c'è il passaggio fondamentale. Metà della popolazione scolastica isernina frequenta il polo di San Lazzaro e quello del PIP di Miranda dove c'è la materna della San Giovanni Bosco. In sostanza migliaia di macchine che fanno su e giù e che sono obbligate a passare per il collo di bottiglia dell'inizio di Viale 3 Marzo dove c'è una sola corsia disponibile visto che l'altra è perenemente occupata dai mezzi del cantiere. Oggi finalmente dopo le proteste arrivate da tutte le parti lo stesso assessore alla Polizia Municipale Domenico Di Baggio insieme ad una pattuglia di vigili ha presidato il punto cruciale ma alla fine ha dovuto prendere atto delle difficoltà ed ha fatto togliere i mezzi liberando entrambe le corsie. Una soluzione momentanea ma dal Comune garantiscono due cose che i lavori finiranno entro domenica perché il discount aprirà lunedì e che ci sarà un'ordinanza che obbligherà il discount a effettuare le operazioni di scarico della merce solo nelle prime ore della mattina. Vedremo comunque l'idea di far aprire un centro commerciale dai pressi di una rotonda che smista il traffico di un'intera città merita sicuramente di essere studiata e il riscontro è abbastanza sconfortante. L'autorizzazione a cambiare la destinazione del terreno dove sta nascendo il discount fu votata praticamente all'unanimità dal Consiglio Comunale della passata legislatura. Forse per questo i nostri politici cittadini restano tutti zitti. Tornano gli open day all'Università del Molise, quattro gli appuntamenti online in programma e partecipazione libera sulla piattaforma Teams con l'evento finale Unimol Orienta 2022 sabato 14 maggio in contemporanea nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Pesche e Termoli. Un programma di eventi misto dunque nel quale docenti e studenti insieme con la partecipazione di laureati e testimonial presenteranno l'intera e dettagliata offerta formativa dell'Unimol. Questo è il calendario, martedì 12 aprile dalle 9 alle 10 area della salute, mercoledì 20 aprile dalle 9 alle 10 area scientifico-tecnologica, martedì 3 maggio dalle 10 alle 11 area economico-giuridica, martedì 10 maggio dalle 11 alle 12 area umanistica. Medaglia d'argento per Andrea Soledad Lopez che ha ottenuto il riconoscimento nei campionati di cucina a Rimini. Una soddisfazione per la giovane di Fornelli che ha voluto trasmettere un messaggio di coraggio e determinazione a tutte le donne molisani affinché credano sempre in loro stesse. Il servizio è di Valeria Migliore. È una geometra di Fornelli, Andrea Soledad Lopez. Tuttavia, nella provenienza da un piccolo borgo molisano, negli studi totalmente lontani dalla cucina, le hanno impedito di vincere la medaglia di Argento ai campionati italiani di cucina a Rimini. L'anno scorso aveva portato a casa un bronzo nella categoria Miglior Professionista Lady Chef. Quest'anno, invece, ha voluto puntare ancora più in alto, ottenendo il premio nella categoria Cucina Calda K1, ovvero Senior. Il mio piatto l'ho chiamato percorso di Alibut. L'Alibut è il pesce principale che dovevamo utilizzare, quindi obbligatorio. Il mio piatto l'ho sviluppato facendo un role di Alibut con barbabietola, alga nori, una polpettina sempre di Alibut con un cuore partenopeo e una Kenel di Alibut con sedano e mela verde, il tutto accompagnato da una salsa al prezzemolo verdi. La soddisfazione più grande per lei e per tutto il Molise non è stata solo quella di emergere tra centinaia di concorrenti, ma anche quella di aver vinto una sfida personale con determinazione e tenacia. Un esempio di coraggio cambiare vita e credere in se stessi e nei propri sogni nonostante la paura di sfidare i propri limiti. Che cosa si è portata a casa? Una competizione comporta ritornare a casa con tante nozioni, con tante esperienze, al di là del lavoro, del piatto che è veramente, non dico a una percentuale bassa, ma è veramente relativo. Torri a casa con ricca di sapere, ricca di conoscenze, ricca di confronti soprattutto. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.